E con grande piacere che ritorna qui. No, non è che ritorni, non te ne sei mai andato perché ti abbiamo prestato alle altre emittenti. Sono due giorni che siamo a Roma e sei apparso ovunque, hai fatto le tue apparizioni in intervista, ma è la prima volta che parli qui da quando sei arrivato a Roma. E ti reclamano, i nostri telespettatori ti reclamano, ci chiedono dov'è Padre Marciano? L'abbiamo visto lì. Il padre e il figlio tv è la mia casa. Quanti anni sono che lavoro con voi? 2005, quindi possiamo festeggiare già i dieci anni, un decennio insieme. Almeno io e te sono dieci anni. Ci sopportiamo a vicenda, ecco appunto, dillo pure. Ci sopportiamo a vicenda. La pazienza, ecco, esercitate la virtù francescana di cui parlavamo prima. Adesso le battute, almeno per me devo dire, sono cresciuto bene e siamo cresciuti bene tutte e due.